Vero fatto di castagne, marron glacé, panna montata, poi ancora il blanc manger che è fatto con panna e zucchero per finire a parlare delle tegole di aosta, insomma mi sta venendo l'acquolina in bocca Noi invece vi spieghiamo questa crema, che caratteristiche ha questo piatto? Diciamo che anche questa è praticamente una preparazione molto semplice, di cucina storica Cogne, diciamo alle porte del parco del Gran Paradiso, paesino sicuramente molto bello e ha la particolarità di aver dato nome a questa preparazione, che è una preparazione semplice a base di latte e panna, anche questo a tuorli d'uova e in ultimo l'aggiunta di cacao L'aggiunta di cacao, quindi una crema al cioccolato praticamente, come l'accompagniamo questa crema? Normalmente questa crema viene servita, come dicevi già, con tegolini che sono dei biscotti particolari dalla Val d'Aosta, che poi più avanti, se riusciamo, magari vi faremo vedere è una crema che può essere servita sia a temperatura ambiente, intorno ai 20 gradi, sia fredda che comunque anche calda Bene Lucy, allora come procediamo per realizzare la crema? Prendiamo tutti gli ingredienti A freddo? Sì Dopo la mettiamo sul fuoco e continuiamo Ecco, allora prima gli ingredienti a freddo e poi mettiamo sul fuoco Dopo togliamo prima che volisca e continuiamo a girare affinché si raffredda per il completo Le uova, professore, sul fuoco o fuori dal fuoco? Le uova le portiamo, come dicevo prima, già per la fonduta Facciamo scaldare, in questo caso il latte e la panna, lo portiamo a 60 gradi Poi fuori dal fuoco aggiungiamo il rossi d'uovo, stando attento che non cuocino perché ricordo a tutti quanti che rapprende a intorno ai 60 gradi dunque se siamo oltre i 60 gradi c'è il problema di formare dei grumi Possiamo comunque sempre salvare la preparazione adoperando lo chinoise che è praticamente uno strumento di cucina, un imbuto con tutti i forellini che serve apposta per bloccare i grumi ma per evitare questo è sempre consigliabile farlo fuori dal fuoco Benissimo, quindi abbiamo il latte, stiamo facendo sciogliere il cacao nel latte e lo mettiamo poi sul fuoco e poi tiriamo via, aggiungiamo le uova e così La preparazione è molto semplice Molto semplice, non ci vuole nessun addensante della farina per farla prendere Diciamo che la preparazione che è raddensa e tutto quanto è le uova Le uova bastano, sono sufficienti per realizzare questa crema e allora non vedo l'ora di assaggiarla insieme a voi naturalmente E adesso facciamo pochi chilometri e ci trasferiamo in Piemonte con Simone Sì, allora il Piemonte è una regione dell'Italia nord-occidentale che ha come capoluogo di regione Torino Il territorio piemontese è prevalentemente montuoso ed è caratterizzato da essere chiuso su tre lati dalle Alpi e dagli Appennini Il Piemonte prende questo nome dal latino pedemontium che vuol dire appunto ai piedi del monte Il turismo in Piemonte è prevalentemente quello invernale con le località sciistiche La cucina piemontese come si caratterizza? Allora, la cucina in Piemonte è molto sviluppata diciamo soprattutto con piatti di carne e di verdure I piatti di verdure sono principalmente la bagna cauda che è un piatto che si è sviluppato fin dal medioevo poiché è caratterizzato da essere formato da alimenti poveri e facilmente reperibili Benissimo, e allora diciamo anche i nomi degli altri ragazzi che si sono dedicati particolarmente alla cucina piemontese Ti chiami? D'amico Chiara E tu che cosa hai preparato? Gnocchi di patate alla piemontese Gnocchi di patate, che bontà Tu? La di Minordin Ho preparato il brasato al barolo Il brasato al barolo, proprio un piatto veramente tradizionale E tu? Valentina Il bonet al cioccolato, che è un dolce Bonet al cioccolato E allora non perdiamo tempo andiamo subito a vedere come si preparano questi piatti La bagna cauda Un piatto che accomuna la regione Piemonte alla Liguria Infatti c'è un ingrediente che i piemontesi prendono da noi Quale? Lo sai? Esatto, le acciughe sottossate Bravissimo, credevo di prenderti in errore Invece sei preparatissimo Allora, come si fa la bagna cauda? Allora, innanzitutto bisogna mettere in una pentolina come quella lì 150 o 200 centilitri di latte con sei spicchi di aglio In modo che l'aglio si addolcisca e prenda un po' il sapore del latte In un'altra pentola, se volete anche un'altra simile a quella Possiamo mettere le acciughe insieme all'olio e farle sciogliere Alla fine, poi, dopo che i due composti saranno pronti E dopo aver tagliato e lavato delle verdure miste, quelle che volete Dovremmo mettere le acciughe pronte e l'aglio insieme alle verdure No, insieme a della panna in un mixer 500 centilitri di panna in un mixer E verrà questo composto qua E poi potrete inzupparvi le varie verdure Ecco, è caldo il preparato o no? Il preparato deve essere servito bollente Addirittura bollente? Sì, per esaltare appunto il sapore Qui il pane non c'entra? In questo caso il pane no Questa diciamo che è una preparazione anche abbastanza, diciamo, un percentuale dietetica Perché di calorico abbiamo solamente la panna La maggior parte è composta di verdure La salsa va, anche questa servita molto calda, come diceva l'allievo Normalmente va servita sopra un fornellino E il commensale, diciamo, prende le verdure di stagione In questo caso possono essere peperoni, sono berze e altre cose Vengono immerse e vengono praticamente consumate come antipasto Con il copa pasta, che è questo utensile rotondo Il professore sta effettuando la mise en place degli gnocchi Ma io mi sposto perché voglio parlare con questa ragazza Che ha una sorella gemella Quindi non è sempre lei che poi spiega anche il piatto successivo Ma sarà sua sorella Ripetiamo il tuo nome? D'amico Chiara Chiara, allora Chiara, vediamo come abbiamo realizzato gli gnocchi Che ingredienti ci vogliono nell'esecuzione Allora, patate, farina, burro e parmigiano Sei in grado di dirmi anche le proporzioni? Oppure lo chiediamo al professore? No, ma l'allievo Lo sa Sì, allora, un chilo di patate 150 grammi di farina 130 di burro E 50 di parmigiano E 50 grammi di parmigiano Professore, per evitare che gli gnocchi si disfino Intanto ci vuole un tipo particolare di patate? Ci sono delle patate particolari, sì Che vengono utilizzate Che regano di più la cottura Ma la nostra amica si è dimenticata Che può essere raggiunto addirittura nell'impasto Anche un tuorlo d'uovo Per rendere diciamo l'impasto Quindi non di più Un tuorlo al massimo Benissimo Allora sappiamo tutti Come si fa poi Ad ottenere gli gnocchetti Si fanno con le mani Si stendono e si tagliano E si condiscono Ecco, come vengono conditi? Allora, alla Piemontese abbiamo messo burro e parmigiano Burro e parmigiano E buon appetito anche con gli gnocchi Una cosa importante da ricordare È che le patate una volta che sono immerse nell'acqua Diciamo nel giro di 50 minuti sono cotte Naturalmente con la buccia Con la buccia, cioè vengono sbucciate E non devono essere passate al passapastate Ma devono essere schiacciate con lo schiacciapatate Se non abbiamo lo schiacciapatate Possono essere schiacciate con la forchetta Ma mai praticamente passare al passapertura Perché creerebbero una parte colloidale Che fa sì che poi gli gnocchi non... Ecco, mi sembra che queste precisazioni Siano veramente importanti Perché il nostro piatto sia coronato da successo Nordin è il nostro gigante buono È un ragazzo che è nato in Marocco E faccio un'anticipazione Nel corso delle puntate di quest'anno Realizzeremo anche dei piatti di cucina internazionale E quindi ci sarai veramente utile Per illustrare e realizzare la cucina del Marocco Oggi invece ti stai cimentando nel brasato al barolo Come si fa? Allora prendiamo un chilo di carne di vitello Poi prendiamo il lardo Poi burro, aglio e cipolle E mettiamo insieme cipolle e verdure Benissimo E casseruola Poi mettiamo la verdura dentro la casseruola Quindi l'abbiamo fatta a pezzettoni Questo fondo viene realizzato